Salve, sono Marco Santoro e vi parlerò delle capanne dei Toda, le Arce. Innanzitutto si tratta di edifici che sorgono nella zona sud-occidentale dell'India, in particolare per rispondere a due principali motivazioni. La prima è di tipo economico, in quanto si tratta di popolazioni molto povere, e infatti la costruzione di queste capanne è prevista utilizzando eccezionalmente ed esclusivamente materiali locali. La seconda motivazione, quella più importante, riguarda il dover rispondere a particolari esigenze climatiche. Infatti ci troviamo in una zona dell'India che è caratterizzata sia dall'influenza del deserto del Tar, sia dalla catena dell'Himalaya che insieme contribuiscono alla creazione di un ciclo monsonico che caratterizza tutte le stagioni, alcune di esse molto piovose. Ed è per questo, infatti, che le capanne dei Toda vengono realizzate seguendo questa forma arcuata che permette il rapido diffuso delle acque. Questo grazie ad una resistente copertura in paglia che poggia entieramente su questa struttura di canne di bambù intrecciate tra loro e poste sia orizzontalmente sia verticalmente in modo tale da rendere stabile la capanna e al tempo stesso di riuscire appunto a raggiungere a questa forma particolare. Caratteristica fondamentale di queste capanne è quella che riguarda la totale assenza di aperture in tutto il perimetro dell'abitazione ad eccezione dell'ingresso. Sostanzialmente esso viene realizzato quasi sempre con una forma quadrata molto piccolo, per la maggior parte delle volte di lato 90 cm o comunque si aggira intorno ai 90-100 cm. In particolare le esigenze climatiche a cui Toda sono costrette a rispondere fondano le loro basi tutte su questa copertura in paglia. Questo perché in estate essa riesce a filtrare i raggi solari e quindi evitare che coloro che la abitano siano direttamente esposti ai raggi del sole sia perché essa riesce a far fuoriuscire l'acqua presente all'interno del terreno che a causa delle elevate temperature tende a evaporare. Tuttavia essa si rivela altrettanto importante d'inverno quando una volta acceso il fuoco unica fonte di calore, unico tipo di riscaldamento presente all'interno delle capanne quindi appunto quando una volta acceso il fuoco essa riesce a far fuoriuscire il fumo generato dal fuoco stesso che altrimenti farebbe sì che sostanzialmente si soffocherebbe all'interno della capanna stessa. Al tempo stesso quindi con questo fuoco poi si riuscirà a rispondere al freddo sia che può penetrare ovviamente dalla copertura in quanto comunque si tratta certamente di una copertura in paglia sia proveniente poi dall'unica fonte dall'unico accesso presente nella capanna quindi appunto la porta, l'ingresso principale posta sul lato anteriore della stessa.